Torino Porta Nuova E' sceso a Chivasso Il signore che puzzava l'ospedale Ma a dire la verità sembra più l'ospedale che puzzava Comunque Torino Porta Susa Così tanto che non ci vuoi mai scendere Guardate cosa succede Il suo binario 1 No guarda bene Guarda di là Vedi che ho aperto di là Il signore Torino Porta Susa Questo treno è diretto a Torino Porta Nuova Io la prendo perché senti la ruota Questa è la ruota Questa è la ruota Questa è la ruota E' la ruota Si però Mi era passato Questa è la ruota E' la ruota E' la ruota E' la ruota E' la ruota Questa è la ruota Torino Porta Nuova Vedi che c'è la struttura in vetro Si si Vedi che c'è la struttura in vetro Iscriviti al nostro canale Sì 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 Grazie a tutti.